Ciao a tutti, oggi parleremo insieme del fegato. Il fegato è deputato alla metabolizzazione di alcune sostanze che possono essere presenti a livello alimentare, colesterolo e trigliceridi, ma anche sostanze presenti nei farmaci, oltre a sostanze a livello ormonale. Il nostro fegato può andare in sovraccarico. Quando? Beh, innanzitutto si può manifestare con dolore premendo nella zona, ma anche un sovraccarico che può essere a livello cutaneo, con delle eruzioni a livello cutaneo, oppure anche quando abusiamo o stiamo prendendo dei farmaci che possono essere o no farmaci salvavita, ma anche quando esageriamo a livello alimentare, soprattutto con cibi che contengono molto colesteroli e trigliceridi, dunque grassi a livello della dieta, ma anche un cambio a livello ormonale che può essere durante la menopausa o la premenopausa, perché il fegato va a metabolizzare anche gli ormoni. È molto importante non sovraccaricarlo e andarlo a rimpulire, ossia disintossicarlo, anche a cicli durante l'anno. Come prodotto per andare a disintossicare il fegato, io vi consiglio l'epafil bifase della linea Prodeco Pharma. Questo prodotto bifase perché agisce in due maniere durante la giornata. Innanzitutto sono presenti dei blister diversi al suo interno, quelli rossi da prendere durante la giornata e quelli blu da prendere alla sera, perché comunque il fegato va sempre, lavora sempre, per cui bisogna disintossicarlo in una maniera durante la giornata, ma anche durante la notte, il riposo notturno. Come dosaggio sono due, due del blister rosso da prendere dopo pranzo e una del blister blu da prendere dopo cena. Quando fare una disintossicazione a livello del fegato? Beh, innanzitutto quando duole, dunque fa male solo a prendere nella zona. Può essere fatto durante un cambio ormonale, come ad esempio durante la menopausa o premenopausa, ma anche per chi soffre di sonnolenza post-prandiale, dunque dopo i pasti, e di emicrania dopo i pasti, soprattutto causata dall'ingestione di alcuni alimenti troppo pesanti per il nostro fegato o comunque per il nostro stomaco. Può essere fatta anche chi soffre di problematiche a livello cutaneo causate sempre da un sovraccarico a livello epatico, ma anche ottimo per chi non ha la cistifelle, è dunque stato operato di calcoli a livello biliare e deve mantenere diciamo in soluzione il colesterolo e favorire anche la digestione. Può essere utilizzato anche da chi abusa di alcune sostanze o comunque ha valori alterati a livello del fegato, fa proprio una pulizia a livello intestinale, ma chi anche vuole fare una dieta, perché il nostro corpo prima di fare una dieta è necessario andarlo a disintossicare, ossia sfiammare, perché molto spesso le diete non funzionano perché il nostro corpo non è stato disintossicato, non è stato sfiammato diciamo a sufficienza. Dunque può essere un valido aiuto. Ottimo anche per chi soffre di risvegli notturni, perché durante la notte ogni ora corrisponde a degli organi. Di solito chi ha risvegli notturni tra le 3 e le 4 corrisponde proprio al livello del fegato, dunque c'è un sovraccarico. Andandolo a ripulire si facilita anche il sonno notturno.